E beh ragazzi benvenuti a questo video, sono Aliferante 25 Oggi siamo qui su Minecraft, la serie parte 1 Sì ragazzi ho già una casa, ho già le cose in ferro e questo perché la prima parte si è cancellata Ma vabbè, siamo qui nella prima parte di questa nuova serie E niente, stavo pensando se facciamo una città sotterranea non è più swaggy, robe varie Magari abbassiamo anche il volume, anche di un po' Non sarebbe un po' più swaggy, voi che dite? Per me sì Quindi qui sotto, perché ho sentito il rumore di Enderman? Comunque se avete sentito anche voi mettete mi piace Vi ho tutti fregati Niente, stavo facendo la farm per gli alberi Farm di legno insomma Stavo un po' ampliando qui la zona per fare tutto e qui ho già un po' di legna Oltre a questo oggi volevo finire la minerozza e comunque adesso andiamo a dormire che almeno usciamo E devo prendere un po' di cibo che sto a morire Non dirmi che non è notte Perché non ci credo Vediamo È giorno, è giorno Tu non mi attacchi vero? Oh Perché mi sta attaccando? Perché sto facendo Spider-Man? Va bene che sei un ragno però Insomma un po' di contenio eh Un po' di contenio signor ragno Un po' di contenio Volevo fare sì Mi è scherzato tipo boom Il microfono Comunque Se raga siete d'accordo Se facciamo tipo Una serie insieme a Ai miei amici magari Una mappa Survival Se si mettete mi piace Sicuro saranno i miei amici che mettono mi piace Perché vogliono partecipare a questa dannata serie Ma vabbè Non vedo nessuno tra l'altro Possibile? Come mi Come Sono saltato in aria Perciò qua Ah guarda guarda Pecorella che tra l'altro Non sono nella 1.8 Ma sono nella 1.7.10 E non so il motivo della Cosa sto facendo? Ehi Ok Non so neanche il motivo per cui l'abbia fatto Comunque Le pecorelle non ci danno cibo Andiamo a aggiornarlo la 1.8 Guarda che c'è qua Vieni qua Guarda quante muccozze Guarda quante muccozze Oddio pensavo fosse Pensavo fosse An incontrare Tipo jab Pgf Pgf Quella mi ha droppato due 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 Sì Certo che sì Se mi lagga la voce al normale Insomma Sì Mangia un po' Che sta a morire di fame questo Torniamo a casa Velocemente ora Ci sono un botto di Di mucche Proprio il mio paradiso Evviva Il mcdonald Venite tutti il mio server Che Il mcdonald No niente Cosa sto dicendo? Creeper Creeper What the fuck Meno meno che ci ho fatto Un pilastro davanti Casa mia Se no Col cavolo Che la vedevo Cioè Ho fatto una cosa sotterranea Almeno c'ho Un punto di riferimento E Ti sei visto Ti sei visto Insomma Mangia un'altra Lo so che non ti piacciono crude Però Insomma È così È così la vita Ecco Appunto È proprio così Veri Veri sad story Se vi è entrato qualcuno in casa Fa una Cioè fa una brutta fine Poi dipende chi fa la brutta fine Faccio io la fa lui Scopriremo nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Dove è finita la mia Raw of beef Un po' di coal Pensavo di aver failato Invece no Invece no Ci abbiamo un po' di ferro Qui Ci abbiamo Sì da cobblestone Lasciamone un po' là Però mi Stengo sempre due stacchi Non si sa mai Non si sa mai Il ferro Infatti ne ho appena ritirato 8 Sto dicendo Dov'è finito il ferro Certo che se sono Idiota Sono idiota Ecco Insomma Volevo lavorare un po' Alla Alla miniera No Però forse quello Ci penserei un po' più Avanti No no La voglio fare oggi Tra l'altro Devo creare un botto di scale Io sono qua A fare lavori Domestici Già Pugno così Pugno così Ok I due stack Non mi bastano Per tutte quelle scale Che devo fare Già ve lo dico Già ve lo dico Quindi Così No eh Così così No così si fa Allora Ah già Credo che se sono tardo Sono tardo Questo non c'era dubbio Ale Sono tardo di nuovo Aspettate raga Aspettate Aspettate Ci sono Giusto Servivano le stick Ok no basta No basta un avanzero Basta un avanzero Non è vero Non è vero Non mi basta Cioè Solo queste Non mi bastano Devo fare un altro Stack Un altro po' di stack Fai così E voilà Dai Dai Sono un po' Però Però so che non mi basteranno Cioè In realtà mi bastano Ma mi bastano di brutto Però Fai le scale Come dio comanda E possiamo Andare Sono proprio tardo C'ho qua La La spatola Sì sì Ale Sì sì È tutto a posto La spatola Non è successo niente Non è successo niente Non è successo niente Facciamo così Vabbè Io arriverò fino in fondo Metto l'acqua E fatto Miniera fatta Ah 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 Quindi ora metto in pausa Vi faccio vedere dopo Ok raga Ho finito Vedete un po' È molto Easy pisi Musqueasy D'acqua Vedi sì Ho distrutto tutto Acqua in fondo E qui scale Per risalire Niente Penso Sia Giusto Anzi Ma Sì Vammi a fare Lab Certo Come E niente Perché prima il lettore Blu era rosso Tan 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 Misteri che mai scopriremo Non è vero Perché c'è una texture Delle extreme hunt farm E niente Possiamo andare avanti Quindi Lasciamo la gravel qua Un po' di cob Sto qua E Diciamo che le scale Bastavano E avanzavano Anche un po' Direi Niente Ora che ho fatto questo Non so quanto sto registrando Comunque penso poco Quindi Continuiamo E Sì possiamo scendere Vero Possiamo scendere Compaggiati Un'arma Tocco Già Già che ci sono Potrei Prendere un po' Di Di legna Che c'ho sotto C'ho qua sotto La legna Quindi andiamo a prendere La legna Ci facciamo Ehi 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 Bug bug Qui non cresce niente Però Dovrei provare Come della farina D'ossa Ora non c'ho le ossa Quindi Bene così Bene così Bene così Ok Facciamo così Tanto la vostra farina Prima poi partirà Comunque Devo ancora alzare un po' Il livello Perché Se no Diciamo che non va Allora Facciamo una bella cosa Vedete Almeno posso lavorare Anche di notte Se faccio la La città sotterranea Che è Swaggy Ok Non Forse Sopraeleveremo Però Non ora Cosa dovevo fare Con questo Ah già Ci facciamo Una chest Due chest Perché una Serve A Ben poco Scendiamo con questa E mi serve No ok Basta non avanzano Perché tanto Le fornaci Oh merda Mi stavo a suicidare Se mi suicidavo Guarda Raga Sono arrivato Praticamente Oh guarda Redstone Redstone Che non serve a niente Ci fossero un po' di Lapiscazzoli Forse Ecco Insomma Forse Andrebbe bene Però Le redstone Potrebbe servire Per dei circuiti Di redstone Che non Lo sarò a fare Perché sembro Un nerd No comunque Non li so fare Insomma E Niente Comunque Vedrete che un po' di Cioè Magari qualche circuito Di redstone Lo copierò Da surreal power Surreal power Ciao surri Rispondimi No Lol Lo so che non mi risponderà mai Perché non guarda i miei video surri Ma per sorpresa sorpresa Guarda i video I miei Cioè intesi No Guarda i video Genericamente Penso Comunque Dopo Che finiamo qua Volevo Andare un attimo A scavare Qui in caverna A vedere se Se Ma sempre se Trovo qualcosa Non credo di trovare diamanti Comunque siamo A livello della bedrock Il cui Dovremmo Trovare qualcosa Oro Oro Un po' di oro Buono 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 Cioè Non ci servono molto A parte per le mele d'oro Che forse Sarebbero belle da fare Anche perché Se ci avremmo Un cavallo Servono Cosa sto facendo Mi drogo Mi drogo Devo mettere delle torce Ok Facciamo così Mangiamo E ora vi spiego Cioè vi faccio vedere un po' Quello che volevo fare Ampliamo ancora di T'ho Tre Tre va bene Facciamo così E poi Vorrei mettere Le chest Qua Quattro Cioè no Due chest Grandi Quindi quattro chest E Poi Ci metto delle fornaci Sopra Dato che siamo in miniera Penso Sia Il minimo Cioè E poi La cobblestone La La sposterei di qua No Perché mi sembra Anche una cosa logica No La cobblestone Se Se Per avere la cobblestone Devi Minare Giusto Giusto il mio ragionamento È vero Certo che Non ho mai visto Della Della redstone A livello Della bedrock Cioè nel senso A livello Proprio Il bello rigallo Però Va bene così Ci abbiamo un po' di redstone Abbiamo tipo 34 pezzi di redstone Che potrebbe Potrebbero Servirci Vedete Sì La personalizzerò In un altro modo Ovviamente Per ora è questa Qua ci mettiamo La crafting table Qua Sì Mi trovo Mi trovo Altamente Già Very Important Problem E ci mettiamo Un altro chest Qua Dio Prendi tutte Eh Grazie Ci mettiamo Altre due Chest Qua Cioè Una chest grande Sì sì Insomma È quello il concetto Raga è quello È quello E poi Facciamo Sì dai Sette fornaci Sette Cioè qua C'abbiamo Una potenza Lavorativa Uber Ultra Powa Peggio cosa Insomma Guarda Guarda Preciso Preciso Sette fornaci Mamma Mamma Voglio la mamma Oddio No no Cosa sto facendo Le barche Cosa sto facendo Ok Devi fare questo Ale Fai altri due Crafting Table E ci abbiamo tipo L'assets da paura Per una base Che Non si dimentica Facilmente Ok Così Sono Amigo E anche un po' Brutto Quindi Quo Ucciamo Anche se la Call Di lano Facciamo così Mettiamone 15 Di più 20 Ne abbiamo Messe 20 Cuociamo Loro Poi Vedete raga Che Si lavora più Più velocemente Così no Facciamo così Quanto sto Registrando E